amici carissimi di auto occasioni ben ritrovati oggi preparatevi per una puntata speciale perché sono venuta per voi in una concessionaria che sa davvero distinguersi ovvero sono nella bellissima concessionaria DS Store di Torino che si trova in Corso Rosselli 181 e che sa distinguersi veramente perché qui tutte le auto rappresentano davvero il massimo dell'eleganza della performanza e dell'avanguardia e allora non vi tengo più sulle spine seguitemi perché non vedo l'ora di mostrarvi tutte le meraviglie che questo mese DS ha pensato di proporci iniziamo con l'amatissima DS3 che può essere vostra con la formula a noleggio free to move a partire da 340 euro al mese oppure se preferite sfruttare la formula style drive potrà essere vostra pensate a 150 euro al mese proseguiamo con questa splendida DS4 potrete godere di questa meraviglia pensate pagando appena 390 euro al mese con la formula a noleggio free to move oppure se preferite la formula style drive con 165 euro al mese e concludiamo in bellezza anzi concludiamo alla grande con il SUV di casa DS che è la DS7 questa meraviglia potrà essere vostra a 420 euro al mese con la formula a noleggio free to move oppure se preferite la formula style drive potrete pagare 300 euro al mese tante meraviglie per voi ma consiglio personale è quello di venire di persona perché le vetture DS dal vivo sono ancora più belle e affascinanti potrete venire qui in corso rosselli 181 a torino ad ammirarle con i vostri occhi e anche a provarle su strada e le sorprese continuano perché noi ci spostiamo di poco e andiamo da teorema citroen siamo sempre in corso rosselli 181 per entrare nella splendida concessionaria teorema citroen una concessionaria che già conquistato il cuore di moltissimi di noi perché qui possiamo trovare del personale altamente qualificato sempre pronto a darci dei preziosissimi consigli altissimi servizi come l'amatissima formula sempre nuova e tantissime vetture sia nuove che d'occasione e a proposito di vetture nuove guardate la meraviglia rispetto alla quale io mi trovo a fianco perché oggi ho il piacere di presentarvi il nuovo SUV c5 aircross che potrete trovare in versione termica o in versione hybrid plug-in una vettura meravigliosa e della quale possiamo ancora anche parlare di incentivi possiamo ancora approfittarne perché sugli hybrid esistono ancora e pensate che questa vettura grazie agli incentivi statali potrebbe essere vostra a partire da 250 euro al mese con manutenzione e wallbox incluse e qui da teorema citroen oltre a tutta la gamma naturalmente delle vetture nuove abbiamo tante tante auto d'occasione quindi siamo pronti per raggiungere naturalmente inunzio con il quale andiamo a scoprire tutte le proposte che questo mese teorema citroen ha pensato per coloro che stanno cercando auto d'occasione usate aziendali o a chilometri zero e iniziamo alla grande con l'amatissima c3 pensate che qui da teorema citroen ne abbiamo ancora qualcuna tra le quali potete scegliere tra le diverse dotazioni sono c3 diesel quindi garantiscono bassissimi i consumi e possono essere vostre con la formula sempre nuova appena 17.900 euro passiamo in casa suzuki un vitara 1400 easy cool quattro ruote motrici sono vetture chilometro zero ne abbiamo ancora un paio a vostra disposizione matricolate nel 2021 la nostra richiesta è di 26.750 euro con la formula sempre nuova e la casa cupra abbiamo uno splendido formentor 1500 pensate a chilometri zero in questa splendida versione colore bianco candy con interni nero titanio e marrone è stata immatricolata nel 2021 e potrà essere vostra con la formula sempre nuova con appena 32.750 euro passiamo in casa renault una capture 1500 diesel paris 110 cavalli una vettura immatricolata nel 2018 e la nostra richiesta è di 18.800 euro con la formula sempre nuova sappiamo che l'amate moltissimo e quindi non possiamo non proporvi una Citroen c3 in questa splendida versione aircross 12 benzina 110 cavalli è stata immatricolata nel 2018 ha percorso 31.000 chilometri e con la formula sempre nuova può essere vostra a 17.350 euro entriamo in casa seat una teca 1000 benzina e versione business una vettura immatricolata nel 2019 ha percorso solo 40.000 chilometri e la nostra richiesta è di 22.750 euro con la formula sempre nuova e per chi stesse cercando la vettura lussuosa e di classe vi presentiamo questa audi q2 1.400 benzina design in questo splendido color argento è stata immatricolata nel 2018 ha percorso appena 29.000 chilometri e con la formula sempre nuova potrà essere vostra a 26.750 euro nissan kashqai 1.5 diesel versione visi a 110 cavalli una vettura che è matricolata nel 2018 ha percorso 50.000 chilometri in perfette condizioni la nostra richiesta è 20.350 euro con la formula sempre nuova e da casa sito in una splendida c5 aircross 2000 diesel cambio automatico 180 cavalli è stata immatricolata nel 2020 in questa splendida versione bianca con gli interni neri potrà essere vostra questa chilometri zero con appena 39.350 euro con la formula sempre nuova e ci piace concludere in bellezza con l'ammiraglia di casa ds vi presentiamo dunque questa ds 9 itens rivoli guardate la bellezza con questo colore elegantissimo blu imperiale e degli interni di ispirazione rivoli è un'auto aziendale che ha percorso pochissimi chilometri è stata immatricolata nel 2021 e con la formula sempre nuova può essere vostra con 53.400 euro cari amici una puntata davvero strepitosa il bello qui da teorema sitone che riusciamo a raccontentare davvero le esigenze di tutti voi mi raccomando venite di persona perché cosa vi abbiamo mostrato oggi è solamente una selezione sono solo delle chicche delle tante vetture che potrete vedere di persona venendo in corso rosselli 181 grazie per essere stati con noi ci vediamo al prossimo show un carissimo saluto da teorema sitone auto occasioni nunzio e federica